IEN Italia Maggio, il numero più importante dell'anno perché legato a SPS Italia, fiera leader per le tecnologie dell'automazione nel nostro paese, si apre con un'intervista esclusiva con Siemens Industry Software sulle soluzioni legate al mercato del food and beverage. Si passa poi a un focus sull'industria 4.0 che mostra una serie di soluzioni legate alle nuove tecnologie digitali. Il vero cuore di questo numero è lo speciale dedicato alla fiera SPS che si apre con un'anteprima dell'evento seguita da una mappa degli espositori utile per i nostri lettori. All'interno di questa sezione troverete una serie di novità di prodotto e soluzioni che verranno mostrate durante i tre giorni, anche qui con indicazioni sull'ubicazione delle aziende citate. Un'altra intervista esclusiva riempie le pagine di questo numero ed è quella all'azienda G-Techno, distributrice di componenti meccanici. Un altro speciale dedicato ai componenti elettrici mostra una vetrina di novità di prodotto e soluzioni dedicate al settore. Sempre a riferimento alla fiera SPS, vi ricordo di venirci a trovare al padiglione 5 stand N12 per scoprire insieme a noi le nostre novità e tutte le riviste del gruppo. Infine, continuate a seguirci su www.ien-italia.eu per scoprire i focus dei prossimi mesi. Grazie a tutti.